E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci con le quei secondarie dedicate a Dragon Ball Z Kakarot. Oggi andremo ad affrontare piccoli incubi. Queste quei secondarie vi ricordo non si trovano sulla mappa ma sono attivabili tramite il recupero delle sfere del drago e per l'appunto evocando i desideri di poter quindi risfidare tutti i nemici che abbiamo battuto in passato. Oggi tocca ai Cell Junior. Vediamo se con Vegeta funziona oppure dobbiamo cambiare personaggio. Ehi piccoli sgorbi! Non l'ho mai dimenticato l'umiliazione che ho subito. Sì, ok va bene Vegeta. Vegeta è ancora irritato per aver perso contro i Cell Junior in passato. è giunto il momento di riscattare il suo onore. Vi ripagherò come si deve per avermi umiliato. Fatevi sotto. Come vedete il livello dei Cell Junior è veramente basso quindi li farete fuori tutti in pochissimo tempo. E anche, fateci caso, gli attacchi di loro, guarda, vi faccio colpire, tolgono veramente pochi. Come l'ho detto, sono basati persino gli attacchi dei compagni per farli fuori. La differenza di forza è evidente. Ora tocca a noi. guardate, l'attacco che è uno mi toglie di HP, quindi, cioè mi fanno il sollettico, mi fanno. abbiamo finito? Ne vuoi anche tu? Spero che abbiate imparato la lezione. Considerati fortunato. Ora sono soddisfatto, quindi ti lascerò vivere. Vuoi scappare? il Cell Junior ha dato un oggetto a Vegeta. Super cura-cola. Oh, cos'è? Un tributo? Forse questi mostriciattoli potrebbero tornarmi utili. Molto bene, ma non deludetevi. Ci siamo fatti alleati i Cell Junior. Dovrebbe darci anche l'emblema. Sì, Cell Junior. A posto, ragazzi. E anche questa missione è andata a buon fine. Ora, facciamo parlare Vegeta. Ok, ha finito. Allora, anche questa missione è andata a buon fine. e su questo bellissimo cartello di pizza e pasta io vi saluto. Voi mi raccomando, come sempre, spulicciate, mettete like, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e noi ci vediamo sempre qui, sul canale, con un nuovo video. Un saluto da Mizaragaret. Ciao, guagliù! Ciao, ciao! 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 Ciao, ciao! Grazie.